Intervento mini-invasivo di embolizzazione prostatica eseguito all'ospedale di Pescara. Il primo caso in Abruzzo su un paziente di 53 anni che era affetto da ipertrofia prostatica benigna e costretto da parecchio tempo a portare il catetere urinario a permanenza. Il 28 agosto noi avevamo questo paziente che abbiamo studiato con degli esami diagnostici, anche di radiologia, oltre ad essere stato inquadrato dal punto di vista clinico dagli urologi, che aveva questo catetere da più di 7-8 mesi ed essendo una persona giovane a sopra 50 anni aveva questa grande necessità di non avere più una vita di relazione perché voi capite che un paziente che porta da più di un anno un catetere per la ritenzione di urina, cioè lui era costretto, la sua minzione era legata alla presenza del catetere endovescicale e anche la sua vita di relazione con la compagna, la moglie, quindi viveva questa vita e noi stavamo andando incontro a questa depressione. Il problema di fare un intervento demolitivo a una persona di 59 anni avremmo creato una marea di problemi nonostante gli urologi oggi con la robotica, con i laser, sono in condizione di poter eseguire degli interventi mirabili quindi abbiamo cercato di studiare bene il caso e abbiamo eseguito questo cateterismo super selettivo compungendo l'arteria femorale, quindi navigando all'interno, entrando in tutte e due le arterie prostatiche in anestesia locale e chiudendo tutte e due le arterie prostatiche. Questo paziente aveva già rischiato praticamente perché è andato in blocco quindi ha avuto la necessità di posizionare un catetere e data la giovane età non è proprio una delle esperienze migliori. Aveva anche una creandola prostatica di notevole volume per cui per evitare quelli che potevano essere i rischi legati ad un intervento chirurgico effetti collaterali legati all'intervento stesso sotto la sfera sessuale abbiamo pensato di comune accordo col paziente e col dottor Degidio di attuare questa tecnica di embolizzazione. Una tecnica che non ha visto molti casi sul territorio nazionale quindi noi ci pantiamo di essere uno dei primi centri che ha provato questa nuova tecnologia con ottimi risultati. Il paziente ha tollerato benissimo la manovra l'abbiamo mandato a casa dopo 48 ore col catetere il catetere che è stato rimosso dopo 20 giorni e il paziente è più che soddisfatto. Ovviamente questa non è un'alternativa questa è un'ulteriore arma che noi abbiamo per trattare quei pazienti che magari correttamente possono essere inviati su questo percorso.